Buonasera, il dottor Michelevania ci presenta oggi la linea KITA, una linea di creme per il viso molto particolare ed esclusiva che è stata recentemente creata. Di che cosa si tratta? Allora, queste creme sono state create attraverso un metodo che io uso come medico, che è il metodo della biorissonanza. Per capire come sono state create facciamo un attimo una premessa, come funziona il metodo. Allora, la biorissonanza utilizza un'apparecchiatura che potete vedere. Questa apparecchiatura che è stata creata dal dottor Folle negli anni 50 permette di misurare l'energia specifica di una persona. In fisica si è visto il fenomeno della risonanza che avviene in questo modo. Se noi abbiamo due diapason della stessa lunghezza, colpiscono un diapason, questo emette un suono. Il diapason simile ma lontano si mette a vibrare, quindi a emettere il suono, proprio per questo meccanismo di risonanza. Quindi un'onda che è entrata viene amplificata dall'altro diapason che è in risonanza col primo diapason. Si possono vedere anche da questo grafico che due onde in dissonanza si amplificano e due onde in dissonanza si neutralizzano. Questo è importante come concetto per capire come sono state create queste creme. Io misuro il valore elettrico energetico della persona attraverso un puntale che mi misura il valore elettrico nelle mani e nei piedi e nel momento in cui ho un esame dell'energia totale dell'individuo riesco a capire come questa energia sta vibrando. Questa è una metodica che utilizzo come diagnosi, come medico, che poi utilizzo anche per la cura. Il valore energetico si inserisce in un principio di cinque elementi che è il principio base della medicina tradizionale cinese dell'agopuntura. Quindi in base all'elemento, in base alla stagione, io riesco a cogliere tante informazioni da una visita. Poi nel mio escursus mi sono avvicinato al Feng Shui che ho studiato per tre anni con Eduard S, che è allievo del maestro Joseph Yu, che mi ha illuminato sull'applicazione dei cinque elementi nell'ambito della casa. Quindi i cinque elementi non si applicano solamente in ambito terapeutico ma anche nell'ambito abitativo. Da questo studio del Feng Shui ho estrapolato una formula matematica che mi permette, in base all'anno di nascita della persona, per sapere qual è la vibrazione principale di una persona, se vibra come legno, come metallo, come acqua. Perché nello studio di un'abitazione, in base all'elemento dell'individuo, la casa sarà più o meno adatta a lui. Per cui queste sono creme ad persona, ma che sono state create in base all'elemento rappresentativo di ogni singola persona? Infatti il meccanismo qual è stato. Il lavoro è durato tre anni, giusto per capire che lavoro. Allora, sono state scelte nel mercato gli ingredienti qualitativamente migliori nell'ambito dello skin care, dell'anti-age e del beauty. Trovati gli elementi, ho preso inizialmente persone fuoco. Quindi, in base all'anno di nascita, con un calcolo specifico se maschile o femminile, ho preso persone sia maschile che femminili tipo fuoco. Poi ho preso gli ingredienti che potevano risuonare meglio con l'elemento fuoco. E con grande pazienza ho iniziato a mettere ogni elemento, testando quegli elementi su molte persone, finché ho trovato una combinazione risuonante dove quel tot di elementi tutti insieme andavano in accordo e andavano in accordo con persone che avevano in rapporto all'anno di nascita la frequenza fuoco. Lo stesso è stato fatto per l'elemento legno, per l'acqua, per il metallo. Quindi è uno studio veramente da certosini. Cioè, se uno coglie come sono state fatte, c'è dietro uno studio enorme, con una grande concentrazione, una grande voglia di creare qualcosa che non esiste. Però io sono affascinato da essere un precursore, quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Per cui ci sta dicendo che con l'utilizzo di questa particolare crema ci sentiremo meglio, oltre a vederci meglio? Certo, il vantaggio di questa crema è proprio duplice. Terapico, quindi? Una è biochimico. Quindi gli ingredienti sono al top nel mercato, nella ricerca scientifica, per quanto riguarda il beauty. Il salto qualitativo è stato fatto che questi ingredienti vengono studiati separatamente. Grazie alla biorisonanza sono riuscito ad assemblare la miglior combinazione di questi elementi tra di loro. In più, altro passo successivo, è che ciascun elemento, cioè la combinazione si addice nel modo migliore a un elemento specifico in rapporto all'anno di nascita. Quindi c'è una combinazione di sinergia, di frequenza, per cui mettendo la crema hai due effetti. Uno, un effetto terapeutico biochimico, per cui hai l'idratazione, le rughe si appianano, hai una migliore luminescenza della pelle, però l'effetto energetico dà alla persona un senso di vitalità e di benessere che si esprime con uno sguardo e un volto che ha una radianza particolare. In più, questo effetto terapeutico, diciamo, o di benessere viene potenziato dal fatto che sul viso ci sono punti riflessi corrispondenti ai vari organi. Quindi la crema può essere massaggiata permanentemente nei punti che corrispondono al tuo elemento. Quindi per esempio l'elemento terra, i punti sono qui, in questa zona, quindi uno mette la crema e sosterrà maggiormente in questa zona l'elemento terra e l'effetto benefico che avrà sarà ottimale. Quindi mettere una crema, KITA, al mattino prima di iniziare la giornata è una sferzata di energia e di benessere. Dottor Vagna, che significa KITA? Allora, KITA è praticamente il diminutivo nome d'arte del nome Chiara che è la founder di KITA Award, di queste creme, che è poi mia figlia. Come mai? Sua figlia ha scelto di portare benessere attraverso la bellezza, figlia di medici e quindi... Allora, mia figlia di natura è un'imprenditrice, non a caso ha studiato fashion business che l'ha portata proprio a orientarsi nel campo imprenditoriale. Però ha studiato anche naturopatia e ha anche un background, diciamo, esperienziale con due genitori, tutti e due medici. Io, esperto in biorissonanza, la mamma, medico agopuntore e medico estetico, quindi che è specialista anche in medicina estetica. Quindi ha un background culturale e creando le creme KITA è riuscita a mettere insieme due culture. Cioè la cultura occidentale biochimica, che valorizza quindi in base allo studio chimico il miglioramento della cute, e la cultura orientale, dove gli effetti benefici del corpo o del viso in esame avviene perché c'è uno stato di benessere anche interno energetico. Quindi è riuscito a mettere insieme occidente e oriente, quindi materia ed energia, che è un po' la formula di Einstein, dove si è visto che sono un continuum. Per cui, diciamo, le creme KITA sono un prodotto d'eccellenza, totalmente innovativi, sono all'avanguardia ed è un prodotto pionieristico. Io ringrazio KITA perché ha permesso la creazione di qualcosa che avrà sicuramente grande successo nel momento in cui viene colto la bellezza del messaggio che porta. Grazie dottor Vania.